Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sul grande fratello VIP, il reality di Canale 5, che stasera 6 novembre andrà in onda con una nuova puntata, dove il presunto tradimento di Aida Iespica a video e la relazione tra il Trentino e la bella Argentina saranno gli assoluti protagonisti. Le ultime novità rivelano che non c'è pace per Ignazio Moser, il concorrente che ha fatto breccia nel cuore di Cecilia, il giovane è nuovamente al centro al centro della bufera per delle affermazioni fatte dallo zio Diego Moser. Le notizie sulla seconda edizione del grande fratello VIP, rivelano che non si placano le polemiche intorno ad Ignazio Moser, al centro di un triangolo amoroso con Cecilia Rodriguez e Francesco Monte. A proposito quest'ultimo ha partecipato a Domenica Live dove ha rivelato di essere sempre innamorato della sorella minore di Belen Rodriguez, sebbene non riesca a perdonarla. Ma ecco arrivare un'altra tegola sulla fascinante Ignazio, già accusato pesantemente dai vari opinionisti presenti in studio da Barbarella. A proposito la famiglia e la manager hanno intrapreso un'avvertenza legale a n video e ai confronti degli opinionisti, rea di aver umiliato il 25enne davanti a tutta Italia. Infatti una giornalista inviata della Dursua ha incontrato prima un cittadino e poi lo zio di Ignazio Moser, che ha dimostrato di non avere peli sulla lingua. Lo zio Diego su Ignazio è un furbo nelle notizie sul grande fratello VIP rivelano che a poche ore della diretta della nona puntata, si arricchiscono di colpi di scena. Anche questa volta Ignazio Moser è entrato a suo malgrado nell'occhio del ciclone, dopo essere stato l'artefice della rottura tra Cecilia e Francesco Monte. Ieri 5 novembre Barbara D'Urso ha mostrato un'intervista allo zio di Ignazio durante la nuova puntata di Domenica Live. L'uomo incalzato dalle domande ha rivelato che suo nipote non era eccezionale come ciclista, mentre è andato forte con le donne. Secondo Diego, suo nipote starebbe giocando con la povera Cecilia, un po' come suppone Francesco Monte. Una preda debole è cascata nella tana del lupo. Inoltre ha rivelato che Ignazio si è fidanzato con la Rodriguez solo per sfondare nel mondo dello spettacolo. Infine ha tuonato, rivelando che ha sfruttato il nome di suo padre per arrivare dentro la casa del GF VIP. Per altre notizie sul Grande Fratello VIP, non vi resta che cliccare il tasto Segui, sotto il video ed accanto al nome dell'autore, Grande Fratello VIP 2017.